Grazie Paolo A un certo punto della mia carriera professionale ho deciso di scrivere un libro e questo è il libro che ho scritto naturalmente ho scritto su altre cose, su giornali, riviste ma io quando andavo in giro continuavo a sentire i miei colleghi che dicevano non si può cambiare la scuola perché bisogna fare come hanno sempre fatto bisogna fare come hanno fatto gli altri prima di noi dimenticando che prima di noi vuol dire rifarsi a una scuola di 50-60 anni fa o forse più dove c'erano 40-50 bambini in un'aula e dove le condizioni dei bambini e della società erano molto diversi allora io ho voluto dimostrare anche con questo libro che è possibile fare una scuola diversa perché quello che è scritto in questo libro è il racconto di un'esperienza della mia esperienza naturalmente oggi non voglio, non posso raccontare tutta la mia esperienza anche perché non vorrei annoiare nessuno mi farebbe piacere se qualcuno poi volesse magari chiedermi qualcosa diciamo magari leggerò alcune cose scritte da me perché un buon maestro se vuole davvero insegnare ai bambini a leggere e a scrivere deve essere uno scrittore e un lettore un insegnante che non ha la passione per lo scrivere e per il leggere difficilmente lo trasmette come un genitore che non legge mai, non scrive mai difficilmente trasmette questa cosa e quindi è evidente che i bambini devono essere abituati ad avere a che fare con persone che indipendentemente dalle loro capacità però siano curiosi, motivati e quindi non si limitino semplicemente a dire devi fare questo ma che glielo facciano vedere con l'esempio, con quello che loro fanno quindi io ho scritto molto e ho sempre scritto per i bambini che avevo a scuola scrivevo di tutto, scrivevo messaggi quasi quotidianamente in cui con loro avevo un rapporto, un dialogo scrivevo racconti inventati, filastrocche si scriveva di tutto e i bambini a loro volta rispondevano o comunque si mettevano in gioco perché capivano che non avevano davanti un insegnante che voleva metterli bravo, bene 5, 8, 7, ma un insegnante che voleva motivarli e che voleva che loro davvero imparassero a scrivere a leggere, non per far piacere a qualcuno ma perché a loro interessa, per loro deve essere una motivazione importante per tutta la vita per cui io ho iniziato a insegnare avendo letto già alcuni testi con la mia formazione i primi passi che si mettono dentro la scuola allora l'insegnante giovane spesso si fa prendere dallo sconforto perché dice io ho studiato che si fa in un modo mi hanno detto che si fa in questo modo vedo che i bambini reagiscono bene in questo modo e poi vedo che invece la realtà magari è completamente diversa e allora questo scoraggia, è quello che è successo anche a me ma io non mi sono scoraggiato anche di fronte a tanti ostacoli ho continuato a lavorare mettendoci di mio mettendoci tutto quello che sapevo tutto quello che conoscevo e a un certo punto della mia carriera ho avuto la fortuna di poter incontrare un grande maestro che è morto da due anni maestro di cui tutti parlano nelle scuole ci sono i libri di questo grande maestro che è Mario Lodi bene, questo grande maestro mi ha molto incoraggiato e devo dire che è stata una persona importante molto importante e spesso andando nelle scuole oggi si trovano i libri di Mario Lodi CP, Bandiera, piuttosto che altri ma io quello che vorrei chiedere alle persone è importante leggere questi libri o forse capire come li ha scritti questo grande maestro perché Mario Lodi non scriveva libri per farli leggere ai bambini in modo così semplice Mario Lodi i libri li faceva scrivere ai suoi alunni insieme ai suoi alunni scriveva i libri questa è la grande diversità questa è la grande importanza di un maestro come Mario Lodi che insieme ai bambini viveva una vita scolastica cercava di dare stimoli e i bambini rispondevano rispondevano scrivendo e lui raccoglieva tutto quanto veniva scritto e poi questi libri venivano restituiti come è stato restituito CP, Bandiera alla diffusione in tutte le scuole ecco la cosa importante è dare motivazione quello che ci si dimentica e io credo che questo oggi valga sia per i bambini sia per gli adulti che tutti abbiamo bisogno di motivazione non si fa niente se non c'è una motivazione che ci spinge a farla e la motivazione non può essere una cosa egoistica individualistica la motivazione può essere il fatto di scrivere perché ci piace perché impariamo perché lavorare insieme agli altri è bello ed è utile e quindi questo secondo me è il messaggio più importante che si può dare che io mi sento di dare anche attraverso il mio libro le esperienze che sto facendo si possono fare tantissime cose con i bambini l'importante l'importante è che il maestro ci creda l'importante è che il maestro condivida e viva davvero questa esperienza io per non continuare a parlare perché poi altrimenti non so mi piacerebbe sentire anche qualcuno ma in prima elementare ci sono tanti bambini che non hanno la libertà di scrivere liberamente quello che pensano perché si pensa si crede che in prima elementare debbano prima imparare la tecnica in questo modo secondo me i bambini perdono un anno di esperienza la tecnica la si impara mentre non dopo cioè non prima la si impara mentre io ho avuto bambini di prima che hanno scritto tantissimo e questo libro è il frutto di questo lavoro e i bambini sanno mettere insieme un po' tutte le cose ricordo che parlavamo spesso perché i bambini hanno sempre da parlare dei compleanni i compleanni erano una cosa che li metteva molta allegria noi a scuola li festeggiavamo e poi parlavamo insieme ai bambini che la cosa importante non è la torta che si mangia ma il fatto di condividere il fatto di fare un regalo agli amici un regalo che non è necessariamente una cosa materiale è un sorriso un qualcosa di scritto e una bambina e sto parlando qui siamo a metà anno non siamo alla fine della prima una bambina che seguiva molto ha messo insieme tante cose ha messo insieme tutti questi stimoli e a un certo punto è uscito un testo di questo tipo prima elementare il compleanno di Dio